Per essere molto chiari, il matrimonio in punto di morte, se cosiddetto, è assicurato, ma perché quello è il matrimonio all'ultimo momento, ma non altro tipo, è tutto lì. In molti non ci hanno naturalmente mai nemmeno pensato, ma il matrimonio in punto di morte rappresenta in effetti un servizio essenziale che deve essere garantito anche in un'emergenza come questa. Coppie conviventi o persone che vogliono sistemare la situazione familiare prima di un eventuale decesso, devono poterlo fare. In questa emergenza non è ancora accaduto, spiega poi l'assessore al personale Lobianco, ma posso dire che nell'ultimo anno un paio di casi ci sono stati. Ad occuparsi dell'atto in queste situazioni è il segretario generale del comune o un suo delegato direttamente all'ospedale. Ovviamente se succedesse nel contesto coronavirus sarebbero da applicare tutte le misure di prevenzione del caso. La persona ricoverata, chiaramente, deve necessariamente ancora essere lucida, poter rispondere alle richieste del celebrante e in grado di firmare il certificato. Speriamo ovviamente non si renda mai necessario, ha concluso l'assessore, ma il comune deve garantire comunque questa possibilità.